Misterioso episodio a Rione Salinella di Taranto, a poca distanza dalla sede della questura ionica, è stata trovata sull'asfalto una dozzina di proiettili inesplosi, alcuni dei quali contenuti in un sacchetto. La cosa non è passata inosservata ai passanti, che hanno subito chiamato il 113. L'episodio è avvenuto in Via Lago di Nemi, nei pressi di un supermercato, zona molto trafficata, soprattutto durante le ore mattutine. Sul posto si sono subito recati gli agenti della Polizia di Stato che hanno effettuato i rilievi. I proiettili inesplosi sono stati raccolti ed esaminati dagli esperti della Polizia Scientifica. Avviate le indagini per tentare di individuare chi abbia perso i proiettili. Al vaglio degli investigatori, le immagini raccolte dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona. Inizialmente la presenza massiccia di forze dell'ordine aveva fatto pensare ad una sparatoria, ipotesi poi smentita dagli stessi inquirenti, poiché non sono stati trovati bossoli.